Venerdì 8 marzo per la festa della donna Per la prima volta nel sud Italia al Privat One E il Chakal, Iliacarta in concert Supported by Flava e Planet Stuff Infoline 335-8426-542 Official TV, Giassai Television Stay Connected Venerdì 8 marzo, il Chakal, Iliacarta al Privat One Uscita a tangenziale agnano, via Antignana 59